Chiaran e Marco vengono di qua, dopo, e dove vanno da voi? Amare, accontrarmi. Amare, accontrarmi. Amare, accontrarmi. Amare, accontrarmi. Amare, accontrarmi. Amare, accontrarmi. La città è finita l'azione Sì, non so, perché non mi voglio far male con la gamba. Sì, non so, perché non so, perché non so. Sì, non so, perché non so, perché non so, perché non so. Sì, 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 non so. Sì, non so. Sì, non so, perché non so. Sì, 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 non so. Sì. Sì, non so. Sì. Sì, non so. Sì. Sì, non so. 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 no scusate ero io il secondo vai faccio il testo scusate me ne sono accorto ora eh non l'ho sentito chiamatelo forte regà ok c'è via mano 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 Grazie a tutti Mi dica questa stracqua Cambio Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 Io 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 Grazie a tutti 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 Un'ora Grazie a tutti 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 Anima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti